Sì, andiamo subito a vedere la situazione meteorologica attuale, partendo con le immagini dal satellite, perché il tempo sulla nostra penisola è in peggioramento a causa dell'arrivo di questa perturbazione di origine nordatlantica che in queste ultime ore ha raggiunto le regioni settentrionali e a partire dalle prossime ore tenderà ad estendersi anche verso le regioni centrali, favorendo un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, a partire da stanotte, ma ancor più nelle prime ore della giornata di domenica, quando sono previsti dei rovesci e dei temporali ad iniziare dal settore occidentale, dalla Marsica, dall'Aquilano, con possibili fenomeni di forte intensità, in estensione poi nelle prime ore della mattinata di domani e di domenica sul versante orientale e anche lungo la fascia costiera. Saranno possibili anche delle temporanee schierite nel corso della mattinata, ma tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio il tempo tenderà nuovamente a peggiorare, infatti questa mappa riferita al pomeriggio sera di domenica, ancor più nelle prime ore della giornata di lunedì, assisteremo ad un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche perché si formerà un vortice depressionario proprio sulle regioni centrali in lento spostamento verso le regioni meridionali e questa situazione esporrà la nostra regione a delle correnti nord orientali che determineranno un ulteriore peggioramento del tempo, precipitazioni diffuse tra domenica e lunedì anche di forte intensità, non si escludono dei nubi fragili e temperature in diminuzione, tornerà la neve sui nostri rilievi, inoltre tra lunedì e martedì un nuovo impulso di aria fredda proveniente dall'Europa settentrionale raggiungerà la nostra penisola e favorirà una nuova diminuzione delle temperature, un abbassamento della quota neve intorno ai 1200-1400 metri e ancora rischio di nubi fragili soprattutto sul settore centro-orientale della nostra regione. Per questo aggiornamento è tutto, a te la linea.